E concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce Ancila Domine, fiat mici secundum verbum Tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremos, gratiam tuum quesimus, Dominem mentibus nostris in funde, utque Angelo nunciante, Christi, Filii, Tui, Incarnationen, coniovemus, per passionem Ius et Crucem, ad resurrecciones Gloriam perducamur, per Iundem Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria, Patre, et Filio, et Spiritus Sancto, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Gloria, Patre, et Filio, et Spiritus Sancto, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. Gloria, Patre, et Filio, et Spiritus Sancto, sicud erat in principio, et nunc et semper, et in secula, seculorum. Amen. requem eternam dunaeis Domine, et lux perpetua luce ad est, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine Benedictum, et socreusque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra, benedicat vos omnipotens Dius, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Grazie. Cari fratelli e sorelle, 500 anni or sono, il 22 gennaio 1506, il Papa Giulio II accoglieva e benediceva il primo contingente di guardie svizzere venuti a Roma per assicurare la difesa della sua persona e del palazzo apostolico. Nasceva così la guardia svizzera che vediamo in tutta la sua bellezza qui riuniti davanti a noi in Piazza San Pietro e grazie per il vostro servizio di 500 anni. Nasceva quindi in quel momento la guardia svizzera e nel ricordare quello storico evento sono lieto di salutare quanti oggi compongono questo benemerito corpo al quale in segno di apprezzamento e di riconoscenza imparte di cuore una speciale benedizione apostolica. Io saluto cordialmente le antico guardi svizzere venuta a Fribourg il cinzanti anniversario della fondazione del corpo dei guardi svizzere, le remerciano di loro fiducia a l'Eglise e ai su successori di Pierre mio saluto va anche a voi tutti pèlerin francophone al corso della settimana di priere per l'unità dei chrétiens io vi invito a prier per che le fiducia di Cristo fanno la volontà del Signore che vuole rassembler tutti i disciples in l'unità per che sia signo di l'unità trinitaire e di l'amore di Dio con la benedizione per voi tutti I greet all the English-speaking visitors presented to Los Angeles During this week of prayer for Christian unity Let us ask the Lord to grant that all his followers may be one so that the world may believe may all Christians intensify their efforts to be builders of unity in truth and love Von Herzen grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache Mein ganz besonderer Gruß gilt heute den Schweizer Gardisten die an diesem Sonntag den Auftakt zu den Feierlichkeiten anlässlich des 500-Jahr-Jubiläums der päpstlichen Garde begehen Dieses Jubiläum, liebe Gardisten bestärke und ermutige euch in eurem Dienst für den Nachfolger Petri Jesus Christus verkündet uns das Reich Gottes Als seine Jünger wollen wir bereitwillig am Kommen dieses Reiches mitarbeiten Euch allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag und dann